e voglio essere libero ti devo fermare tu non è io esco Artù e spara la Yamsen chi l'è stata fa' sta tesseria? io che potevo fare? io ero morto se fosse vivo e vi farei contento subito ditemi tutta la verità dottore ditemi tutta la verità parlate a cornudo parlate a cornudo ha la tosse è grave ci sono delle lettere e deve vederle lei aspetta perché io sono stato l'amante della moglie di Alberto Califano la moglie dell'amante di Alberto Califano non avete capito che sa se cedere non avete capito che sa se cedere ma vai la mare zitta qui L'accalitate pure, cosa c'è. Ci sono figo di Yuval che chiede udienza. La po' fa. E' esorto un equinozio. Conte di Yuval semmo. No, no, no. Poi come no. Te dico io. Yuval padre. Padre Yuval. Yuval. La vostra salma andava sì, numata. ma seppellita nella spazzatura eppure dovrebbe esserti facile non riconoscere il tuo figlio migliore tu, tu saresti io sono questo povero Cristo si aspettava che pure in altro mondo era presente vabbè, mentre fantasticavo questo pensiero si era già fatta quasi mezzanotte e io restai rinchiuso, prigioniero, morto di paura davanti alle candeline e tutto ad un tratto cosa vedi da lontano? due ombre avvicinarsi dalla parte mia pensai questo fatto mi è per strano a Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti